Musica Quali sono le fasi e i tempi di lavorazione della botarga? Le fasi della botarga sono abbastanza brevi, diciamo che da una botarga fresca per poterla portare a essiccazione naturale, perché noi facciamo un'essiccazione naturale, ci vogliono 15 giorni. Naturalmente dipende molto dal tempo, perché più il tempo è umido, meno riesce ad essiccarsi prima, quindi ha bisogno di un periodo molto secco. E questo avvantaggia molto per esempio il vento maestrale, perché riesce ad essiccarsi prima. Quindi noi siamo gli unici qui in provincia di Oristano ad effettuare ancora la lavorazione della botarga con l'essiccazione naturale. E la vediamo qui con queste tavole che noi mettiamo ad essiccare naturalmente, le curiamo nei minimi particolari portandolo poi ad avere un gusto tutto particolare rispetto a quella che magari si fa con i forni di essiccazione forzandola come essiccazione e quindi non dà la resa che dovrebbe dare questo tipo di botarga che facciamo noi. Quanto tempo ci vuole per arrivare al prodotto finito? 15 giorni come ho detto prima e poi molto dipende dal tempo, perché se il tempo è umido non riesce a essiccarsi prima. Riguardo invece all'aspetto commerciale, quale riscontro ha sul mercato il prodotto? Il prodotto sta assumendo una fisionomia abbastanza buona adesso, perché sta entrando in tutte le cucine, non solo nazionali, non solo locali ma anche internazionali. Per cui il nostro prodotto è abbastanza conosciuto in tutto il mondo, infatti stiamo esportando anche in tutte le parti del mondo, Giappone, America eccetera. E quindi contiamo di portarla anche ad incentivarla notevolmente questa produzione di botarga per poterla portare a conoscere anche a quelli che non la conoscono ancora. Il prodotto ha conseguito un marchio? Il prodotto è in fase di riconoscimento del marchio, perché stiamo proponendo il dopo, ancora non ce l'abbiamo, però dobbiamo riconoscere che la lavorazione fatta qui a Cavras è diversa da quella fatta per esempio a Cagliari o a Mogolo o fatte in altre parti, perché forse il clima riesce a favorire molto di più la stagionatura della botarga e quindi dando anche il gusto alla botarga. Un consiglio per valorizzare ulteriormente questo prodotto? Io darei un consiglio intanto agli enti che ci gestiscono praticamente provincia, comune, regione eccetera, di incentivare notevolmente quelle che sono le fasi di riconoscimento nelle fiere, credo è molto importante la presenza della botarga e poi anche, secondo me, portarlo fuori all'estero come valore aggiunto della Sardegna, non solo il miele, non solo il pecorino, non solo, ma portare un pacchetto di prodotti tipici della Sardegna e in questo caso della provincia di Oristano e portarlo in giro per poterlo farlo conoscere. Diciamo che il primo impatto nel far conoscere la botarga è terribile perché il gusto forte della botarga deve essere abbinato a dei prodotti che si abbinino bene, per cui io consiglierei, siccome conosco molto bene il gusto del forte della botarga, di abbinarlo a un qualcosa di dolce, quindi molte volte io consiglio nel primo impatto una patata bollita, lessata, condita con dell'olio extravergine, che è fondamentale, è servita così. Il primo impatto sarà sicuramente gustativo, praticamente apprezzeranno questo tipo di botarga. In quali altri modi può essere proposta la botarga sulla nostra tavola? Ma adesso che è il periodo dei carciofi, per esempio l'abbinamento con i carciofi è fondamentale, poi abbiamo gli spaghetti con la botarga, che è il tradizionale piatto che proponiamo sempre, semplicemente con l'aglio e il peperoncino e mettendoci questo grattugiato di botarga che dà il gusto finale. E quindi ritengo che la botarga, ultimamente nell'arte culinaria, stia entrando in tutti i modi, si sta abbinando molto bene a tutti i risotti, con dei sughi particolari di pesce, si sta abbinando bene con tutte le verdurine, come detto prima con la patata, con i finocchi, che è ottimo, con lo stesso discorso del dolce e col salato, per cui sta entrando molto bene nella gastronomia e sta presentando dei piatti veramente eccezionali. Come fare per proporre un prodotto di qualità? Intanto curarlo come lo stiamo curando noi. Ripeto, la fase di essiccazione naturale, quella che abbiamo riconosciuto dal nostro padre, praticamente perché questa è una generazione che va da oltre 100 anni, ci ha indicato di rispettare questi valori tradizionali, che sono quelli dell'essiccazione naturale. Praticamente qui nel laboratorio non vedrai dei forni di essiccazione, perché non li abbiamo mai voluti. Facciamo delle piccole quantità, non andiamo sulla grossa distribuzione, perché non siamo di quella... cioè puntiamo veramente a un prodotto di nicchia. E questo lo stiamo portando avanti con successo, perché alla fine ci sta premiando questo fatto di poter presentare questo tipo di prodotto fatto col sistema tradizionale. Come può essere proposta la botarga sulla tavola? Allora, la botarga noi la proponiamo sia come antipasto mangiato al naturale, diciamo, tagliata a fettine, e con un goccio di olio d'oliva, di frantuglio, possibilmente sopra. E così si gusta proprio nelle sue forme, nel suo sapore. Poi si può anche accompagnare con delle insalatine di carciofi, di sedano, a seconda della stagione, di quello che ci propone il mercato, diciamo. Poi con la pasta alla botarga, che è classica, gli spaghetti, e poi anche con... ecco, accompagnata anche con della pasta, sempre, rosolando dei carciofi, e a ultimo con una spruzzata di botarga che esalta il sapore, ecco, sia dei carciofi che anche della botarga stessa. Ripeto, la botarga, secondo me, sono dei piatti che vanno gustati senza tante cose in mezzo. Va gustata nel suo sapore, senza metterci tante cose che magari guastano. Oggi quale piatto ci proponete a base di botarga? Appunto la pasta alla botarga, che è una pasta semplice. Infatti facciamo insaporire dell'olio d'oliva con degli spicchi di aglio, una puntina di peperoncino, e poi amalgamiamo la pasta con della botarga. Facendo attenzione a non fargli toccare il fuoco, ecco, il calore alla botarga, perché lo rovina, cuocendo, vanno via i loro sapori. E va emulsionata bene con movimenti energici, con un forchettone, con un mestolo, ecco, in modo da amalgamare bene l'olio con la botarga e formare una crema. Questo esercizio propone la botarga durante tutto l'anno? Sì, sì, sì. Siamo in grado di proporla tutto l'anno, sempre facendo attenzione a trovarlo, le uova di mugine, ecco. Però possiamo proporlo tutto l'anno, sì. Generalmente è apprezzata dai turisti? Sì, sì, molto. Loro vengono a posta a mangiare la botarga e tutti i piatti, anche caratteristici di cabras, vengono a posta per quello, ecco. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS